con dei mafiosi, io credo che il vero vilipende alle istituzioni siano che persone come Schifani possano occupare le istituzioni, questo è vilipendo, io credo che il vero vilipende alle istituzioni siano che persone come Berlusconi possano occupare il posto di capo del governo, questo è vero vilipende alle istituzioni, io una cosa voglio chiedere a Berlusconi, perché quando si cominciò a parlare del fatto che c'erano dei giudici che a Palermo, a Catalissetta, a Firenze, a Roma stavano indogando sulle stragi, disse che c'erano delle procure che stavano complottando contro di lui, ancora non si parlava di nessun avviso di garanzia, nessuno aveva fatto il nome di Berlusconi, eppure Berlusconi disse quelle procure complottano contro di me, questa non è altro che è un'ammissione di colpa, è un'ammissione di colpa, è quelle cose che lui vuole nascondere, che ha tentato fino a oggi, è riuscito fino a oggi a nascondere, oggi finalmente stanno venendo fuori, oggi ci sono dei collaboratori di...